Vediamo un altro esempio di Google Chart, ad esempio vediamo una cosa abbastanza diversa, ad esempio le geochart. Le geochart permettono di visualizzare delle mappe, ad esempio di questo tipo sull'Italia, in cui posso visualizzare diversi punti con determinati valori. Quindi in questo caso avevamo un certo valore che centrava con la popolazione e un altro che centrava con l'area del cerchio stesso. Anche in questo caso è tutto abbastanza semplice, posso utilizzare lo stesso esempio su cui stavamo lavorando, cioè avevo creato un progetto Maven, Google App Engine, Google Chart appunto. Qui c'era il file index.html che era quello che abbiamo fatto precedentemente, che faceva le aree a chart. Creiamo un altro file, che chiamo geo1.html, dove appunto potremmo fare un'operazione di questo genere. Copiamo il codice di index.html, dovevamo già, copiamo direttamente l'esempio dal Google Chart. Ok, vediamo il risultato. E viene questo appunto disegno dell'Italia con i vari pallini che rappresentano diverse città. Ok, quindi in particolare lo schema è sempre quello. Ho nel body un elemento div che viene agganciato in questo punto qui, prima di disegnare il grafico. Ho sempre i miei dati in forma di matrice fondamentalmente. Chiamo la funzione DrawMakersMap con delle opzioni, regione it vuol dire regione italiana, e i colori vanno dal verde al blu per selezionare diverse cose. Anche in questo caso possiamo intervenire con jQuery. Ad esempio è gestire una funzione che a ogni click del mouse aggiunge un pallino alla mappa. Quindi anziché visualizzare tutti questi pallini contemporaneamente, voglio visualizzare un pallino per volta ad ogni click che faccio di un pulsante che metto nella mappa. Anche questo è un semplice esercizio di quello che abbiamo visto di jQuery. Quindi posso fare un pallino che chiamo add, add element. Anche in questo caso potremo generare dei valori casuali per evitarci in modo molto semplice. Prendiamo l'index HTML per copiare la parte di jQuery. Ok, quindi copiamo questa riga qui. DJQuery. Ok, e qua posso direttamente copiare tutto questo pezzo qui. Tanto è sempre uguale. Quindi in generale ho una funzione che quando è pronta chiama, questo si chiamava drawMaker'sMap. Ok. E una funzione go che vedremo, che chiameremo un'altra cosa. Quindi per adesso questo lo cancello, tutta la funzione la posso tirare fuori dalla parte di jQuery, tanto è una funzione che verrà invocata ovviamente da jQuery. e per adesso potremo creare inizialmente un array vuoto. Quindi possiamo creare un array var x dove saranno i miei dati, che contiene soltanto per adesso l'intestazione. qui ci metteremo x, quindi visualizziamo x con queste opzioni. quando creo la funzione. Ok, vediamo, open with... Qua dice, incompatible data table, error, table contains more column than expected. Vediamo se ho fatto degli errori a fare queste operazioni qui. Ok, allora facciamo una variabile x uguale a... fondamentalmente vorrei prendere questo pezzo qui. vorrei creare inizialmente vuota, vediamo se me lo lascia fare o se mi da dei problemi. ok, vediamo se ho il problema... intanto aggiungiamocene uno di base e vediamo se... questo è il problema... facciamo rom... cento, cento... ok, vuole almeno un punto... almeno un punto lo vuole. vediamo se posso... se qua metto un qualcosa che non esiste... se qua faccio una cosa del genere è peggio che peggio immagino... se qua faccio una cosa del genere è peggio che peggio immagino... ok, niente... creiamolo così con rom creato fin dall'inizio... ok... potremmo guardare con calma come si può fare per generare una... una cosa completamente vuota... ok... 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 quindi... quando premo sul pulsante add... chiamerò una funzione... che... lo posso chiamare... add... element... ok... ok... funzione add... element... dove posso fare... x.push... dopo vediamo come gestirlo... in modo più automatico... intanto qua mettiamo Milano... e... dopo di che richiamerò la draw marker map... il risultato è che quando faccio add element... rom... mi è comparso appunto... Milano... mi è comparso Milano... ok... quindi in questo caso... rom è generato con 388... che rimane 388... ma quando metto Milano... generato... più grande... appunto... viene... viene così... ok... a questo punto chiaramente avete già capito... posso creare un array... statico... inizialmente... con le diverse città... city... uguale a quadra... ci mettiamo ad esempio appunto... Milano... reggio... reggio... emilia... modena... napoli... e basta... un contatore... var i uguale a 0... ogni volta... aggiungerò... city... i... e farò un i++... a questo punto... quando visualizzo questo... questa applicazione... aggiungiamo Milano... aggiungiamo reggio... Modena... è lì vicino... Napoli... e via così... posso aggiungere tutti i vari elementi... alla mia... eh... alla mia... grafico... diciamo... geochempo... ovviamente... tutte queste cose qui... le abbiamo fatte in un progetto... eh... in un progetto... maven... quindi... in un progetto maven con Google App Engine... quindi a questo punto... adesso potrei fare il run... di... ad esempio in DevApp Server... poi se c'ho... già... un server in esecuzione... su quella porta... qui... nonostante... ho aspettato... con la volta... alla volta... qui... qui... si... in un... in un... inc... in un... in un... verso... che... capito... in un... ok continuo a dare questo errore vedete could not open the requested socket address already used bind vuol dire che fondamentalmente c'è già qualcosa in ascolto nella porta che vorrei usare che non capisco cos'è non capisco bene cos'è quella cosa che è già in ascolto su questa porta provo a chiudere clips e riaprirlo poi dopo vedremo altre soluzioni magari in un altro momento o se questa non funziona ok l'idea è che chiudendo clips mi aspetto che se c'era un server ancora in esecuzione stranamente che non riesco a vedere anche il server appunto termini quindi riproviamo selezioniamo il progetto google app engine chart e facciamo il nostro maven ok adesso è andato chissà cosa aveva precedentemente ok adesso è andato chissà cosa aveva precedentemente forse devo stopparlo dire la verità c'era questa cosa qua nella lezione di maven di google app engine quindi questo qua è localhost 8080 e si chiamava la nostra pagina che abbiamo fatto geo1.html così vediamo un'altra cosa geo1.html qua da un errore ok e l'errore è questo qua dice google map api error missing key map error questo purtroppo è un errore un po particolare nel senso che fino a poco tempo fa non lo dava ok fondamentalmente per alcuni tipi di mappe in particolare tutte le mappe che coinvolgono i servizi geografici google vuole che registriamo una chiave diciamo associata alla nostra applicazione in modo da sapere fondamentalmente a quale applicazione facciamo riferimento per farlo quindi dobbiamo fondamentalmente clicco qua clicco qua sull'errore mi dice no ap key e posso cliccare su questo obtaining an api key qua metterò ok get a key qui posso selezionare un progetto in particolare io diciamo che voglio caricare questa cosa qua in tiv test 7 clicco clicco enable api e lui mi ha generato questa chiave che posso copiare questa chiave che userò all'interno del mio codice vediamo come mi copio qui la chiave che voglio utilizzare appunto e qui faccio vediamo se pro vediamo se pro vabbè adesso questo calo verifichiamo comunque andiamo avanti quindi qui ho chiuso l'applicazione devo aggiungere una chiave quando chiamo questa libreria qui mi ero già preparato il file giusto ok e la chiave è questa qua in quella google chart load current dobbiamo aggiungere un maps api key maps api key e poi tra virgolette la chiave che ho appena copiato ok vediamo se vediamo se vediamo se per caso vediamo se per caso vedo che c'è ancora il server in esecuzione ok per quanto sicuramente io qua l'abbia stoppato devo trovare il modo di stoppare il server maven così perché altrimenti dovremmo ogni volta chiudere chiudere clips che è molto scomodo vediamo se trovo un google app engine maven stop dev server ok ok sembra questo goal qui dev server stop che dovrebbe stoppare il web server vediamo se funziona posso creare un nuovo run configuration ok proviamo a modificare questa la chiamo dev server stop stop apply run ok sembra essere eseguita dovrei aver spento il dev server e qui ok chissà se era già spento prima comunque proviamo a eseguire selezionando il progetto run configuration dev server run ok andiamo in mi da di nuovo quel problema sulla chiave possibile che non abbia salvato ok forse non avevo salvato allora stoppiamo di nuovo vediamo se ok adesso è salvato molto strano forse soltanto un problema di cache di google vediamo intanto allora facciamo così allora clicco qua rifaccio partire l'applicazione vediamo se innanzitutto se parte o se devo stopparla con maven con quel nuovo obiettivo che ho fatto dev server stop ok allora l'applicazione è partita quindi forse quel dev server stop non serve a niente era solo stato bloccato così qui ricarico la pagina qua mi sta dando un errore la riga 7 devo aver sbagliato qualcosa a scrivere infatti la riga 7 è proprio quella che ho aggiunto ok sicuramente qui ho sbagliato qua ho aggiunto un apice che non ci andava quindi risalvo rifacciamo a ripartire maven ok ci dovremo essere qua adesso sono i localhost e con gli add riesco ad aggiungere finalmente i vari pulsanti i vari placemark che avevo indicato abbiamo finalmente risolto i vari errori che avevamo ok 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 Grazie a tutti.